La missione play-off dei Lupi è arrivata al suo secondo giorno e già comincia a diventare più intensa. Le notizie che arrivano dal piovoso Partenio Lombardi sono confortanti e raccontano di una squadra ancora in forma campionato che desidera proiettarsi al meglio alla post-season. Rispetto a ieri sono rientrate in gruppo Liotti e Rocca con D'Ausilio e Russo che oggi hanno gestito i carichi facendo lavoro differenziato. Pausa per Tiago Cionec che al suo secondo giorno di lavoro in palestra dovrebbe tornare in gruppo nella giornata di sabato. Per il resto tutti arruolabili con una considerazione sul morale della squadra che davvero fa ben sperare. Chiudere la stagione regolare al secondo posto ha evidentemente dato nuova linfa alla squadra che ora punta con decisione ad un obiettivo ambizioso ma raggiungibile. I ritmi degli allenamenti sono alti, il piano è già definito. Nei prossimi dieci giorni si cercherà di caricare per portare tutti nella migliore condizione fisica. Poi si procederà con la cosiddetta settimana tipo sperando che a quel tempo si siano rimessi tutti in pari. Ma ciò che conta più di ogni altra cosa è l'umore altissimo dei calciatori. L'esultanza durante la partitella a metà campo, la disperazione di Patierno per aver preso un palo, raccontano di una squadra che non abbassa l'attenzione, che sa quel che vuole e che è ben consapevole che il calcio ti offre sempre una seconda occasione e che bisogna essere bravi a non fallire passo dopo passo. Grazie a tutti.